via in bocca al lupo cerchiamo di arrivare tutti i sani e sali all'arrivo e tanta sportività e poi vedremo chi sarà che entrerà nell'albo d'oro di questa manifestazione ormai che da anni per organizzare questa manifestazione il 25 aprile dai 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 robie andrea no 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 8 secondi vivo solitario nel portacolori del team black zanzarriere però mi sembra che fracassi o passi sulla fettuccia sarà appunto il photo finish a delineare il vincitore grazie 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 grazie